Trovare il sangue giusto al momento giusto è la sfida che ogni giorno si compie alla banca regionale del sangue raro che ha sede presso il centro trasfusionale del Policlinico di Milano. Dal 2005, grazie ad un fondo di regione Lombardia, tipizzato più di 100.000 donatori ha permesso di individuarne 15.000 rari e 1.000 ultra rari. Abbiamo nel nostro inventario circa 2.000 sacche congelate per unità estremamente rare che vengono poi scongelate in caso di necessità. Viene congelato nei nostri congelatori a meno 80 gradi, il sangue può essere conservato fino a 10 anni, però per casi estremamente rari i donatori, la scadenza può essere posticipata. È importante tantissimo anche reclutare i donatori di origine non caucasica, soprattutto alla luce del fatto che ormai siamo una società multietnica e quindi è necessario avere sangue negativo anche per questi antigeni, perché anche questi pazienti necessitano supporti trasfusionali. Il Covid non ha rallentato il lavoro di reclutamento dei donatori di sangue raro, che anche durante la pandemia hanno dato un aiuto prezioso. Il sangue dei donatori è stato utilizzato tantissimo per i pazienti Covid, perché noi eravamo anche il centro di riferimento per i moduli della fiera di Milano e quindi ovviamente abbiamo incrementato moltissimo l'assegnazione di sangue proprio per questi pazienti. I nostri donatori appunto quando vengono a donare fanno anche il test, fanno anche il test quello rapido e ovviamente donano quelli che sono negativi ovviamente. Se ad oggi sono 370 gli antigeni individuati raggruppati in 43 sistemi gruppi ematici, il più conosciuto è AB0 con i fattori RH positivo e negativo, il futuro sarà la sequenza genomica. Siamo passati appunto dalla sirologia alla biologia molecolare e speriamo a presto di incrementare anche la sequenza. In questo modo ogni singolo donatore o anche ogni singolo paziente potrà essere tipizzato per l'intera genoma, quindi sicuramente è un grande passo questo. Creare una rete tra i centri trasfusionali italiani per far diventare la banca del sangue raro una realtà nazionale è il prossimo obiettivo a cui sta lavorando il team della dottoressa Revelli. Questo ci aiuterebbe tantissimo, cioè noi non sappiamo a livello nazionale che cosa c'è, quali sono i donatori effettivamente rari localizzati non solo in Lombardia ma magari a Roma piuttosto che da qualche altra parte d'Italia e a volte per delle richieste molto rare siamo costretti ad attivare i centri internazionali.